Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 9 settembre. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Ritambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, la legge dei profeti fino a Giovanni. Dall'ora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. E' più facile che passi nel ce della terra, anziché cada un solo trattino della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio. Parola del Signore. In questa sezione del capitolo 16 del Vangelo di Luca ascoltiamo tre detti del Signore conservati dalla tradizione apostolica e raccolti appunto dall'Evangelista Luca che sono accomunati dal tema della legge, la legge antica. Anzitutto nel primo detto Gesù dice che la legge dei profeti, cioè tutta l'antica alleanza, l'Antico Testamento, giunge fino a Giovanni. Dall'ora in poi viene annunciato il regno di Dio. Quindi Giovanni è colui che conclude l'Antico Testamento. è l'ultimo profeta, è il profeta che giunge a indicare il Messia disceso sulla terra, il figlio di Dio incarnato. La legge dei profeti fino a Giovanni. Però ecco l'altro detto che si collega al primo. È più facile che passi nel c'è della terra, anziché cada un solo trattino della legge. La legge di Dio, proclamata nell'Antico Testamento, non perde il suo valore per la venuta di Cristo. Gesù infatti dice, lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, non pensiate che io sia venuto ad abrogare la legge, sono venuto a darle compimento. Quindi Gesù è colui che dà compimento alla legge antica, non la abolisce. I comandamenti, in particolare i dieci comandamenti, hanno un valore perenne. Rivelano quelle esigenze morali che sono scritte nel cuore dell'uomo. San Paolo, per esempio, nelle lettere romane parla di una legge naturale che è scritta nel cuore dell'uomo per cui i pagani sono legge a se stesso e obbediscono alla legge di Dio pur senza conoscerla. Ecco quindi che i comandamenti non vengono aboliti da Gesù, non passano. Ma Gesù le porta a compimento. Per esempio nel discorso della montagna dice, vi fu detto non uccidere, ma io vi dico, non dire al tuo fratello stupido. Chi dirà al fratello stupido meriterà il fuoco dell'inferno. Vi fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi Gesù radicalizza e porta alle estreme conseguenze la legge di Dio perché vuole che l'uomo sia riformato. Gesù Cristo, che è il Salvatore, viene sulla terra per portarci la grazia di Dio che permette all'uomo di vivere la legge con perfezione. E certo, abolisce della legge ciò che caduco e la interpreta in senso nuovo. Quindi alcuni percetti specifici, alcuni percetti alimentari, eccetera, lo stesso sabato, prende tutto un senso nuovo alla luce di Cristo. E ancora Gesù fa un esempio. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Mosè dava il permesso di ripudiarla a moglie. Gesù radicalizza la legge e dice che no, non è possibile il ripudio. Il matrimonio è per sempre. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Chiediamo alla grazia di vivere i comandamenti di Dio con la forza dello Spirito Santo e di essere testimoni di quella libertà che il Signore Gesù è venuto a portare sulla terra. La libertà della grazia. La libertà che libera. La libertà che, appunto, liberandoci dal peccato, ci permette di vivere da figli di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.